Buonasera, sono dalla provincia di Savona, centro per l'impiego di Albenga, come tutti gli anni siamo qui alla festa dello sportivo perché ormai c'è un feeling particolare tra San Giorgio e il centro per l'impiego di Albenga noi veniamo a illustrare ai partecipanti di questa bella festa le nostre attività istituzionali che sono quelle di cercare di aiutare e adesso proprio di cercare di aiutare i tanti disoccupati che ci sono a trovare un'occupazione anche temporanea ma che possa permettere di dare un minimo di reddito alla persona Il nostro fine è questo, ci impegniamo moltissimo per questo fatto e speriamo che queste cose siano minimamente apprezzate dalla gente Buonasera a tutti, buona festa